Va ora in onda la rubrica Ozonoterapia e a cura del dottor Leonardo Pentivolpe. Buongiorno, anche se è ancora presto perché siamo nel mese febbraio, ma quanto prima? Tra un mese e mezzo si ritornerà a parlare di cellulite, è un argomento che interessa più o meno tutte le donne, anche gli uomini, perché anche gli uomini ormai incominciano a denunciare o a preoccuparsi di cellulite sulla pancia, anzi sinceramente ho diversi pazienti che vengono, uomini, che vengono specificamente a porre il problema della cellulite sulla pancia. Dico è presto perché? Perché è ancora così, siamo tutti coperti, non ci sono le prime giornate di primavera, per cui è un argomento di cui non ci si occupa. Invece noi ne parliamo un po' in anticipo su quelli che sono i ritmi normali, i tempi normali di focalizzazione di questo argomento. La cellulite non bisogna che venga confusa con l'obesità, perché ci sono, sanno benissimo, molte donne magre che hanno la cellulite, che hanno questo accumulo, soprattutto a parte laterale esterna delle gambe e che sebbene si sottopongono magari a diete drastiche, hanno la delusione che quell'area rimane integra. Si perde peso ovunque, però non in quell'area. Perché? Perché la cellulite non è grassa, la cellulite non risponde alla dieta classica, o perlomeno se si fa una dieta si cala leggermente dove c'è la cellulite, però è deludente il calo in relazione ai sacrifici della dieta. La cellulite non è grassa, in che senso la cellulite non è grassa? La cellulite è pannicolo adipose, sempre cellule adipose, grasse, che però sono a volte imprigionate in tessuto connettivo. Il tessuto connettivo è un tessuto particolare, immaginate, il tessuto connettivo è quello che si forma, se ci tagliamo si forma una cicatrice, quello è tessuto connettivo, il tessuto connettivo è una specie di, ce l'abbiamo in tutto l'organismo, però dove c'è cellulite riesce a imbrigliare le cellule adipose. questa rete, questa maglia, questa prigione in cui si trovano le cellule adipose fa sì che non si riescano a sbloccare, si cala ovunque, anche se si fa attività fisica, ci si tonifica, si cala però in quel punto dove a molte ragazze interesserebbe vedere il calo, tutto rimane stagnante. Perché? Perché la cellulite, oltre che essere trattata con la dieta, deve per avere un beneficio, non la cellulite, ma la paziente, per avere un beneficio deve essere trattata localmente. Quindi, che significa trattata localmente? Significa che bisogna agire su quelli che sono i fattori che imbrigliano le cellule adipose. Quindi la cellula adiposa è immersa in una rete tridimensionale di tessuto connettivo, in quella rete tridimensionale la cellula adiposa viene soffocata perché non arriva sangue, ecco perché le donne constateranno e anche gli uomini se constatano sull'addome, sulla pancia, constateranno che dove c'è la cellulite, toccando e sentiranno un'aria fredda, mentre magari andando a toccare le gambe a 10 centimetri di distanza, sentono che la gamba è normalmente irrorata. La gamba o l'area dove c'è la cellulite? La cellulite è un'area dove c'è deficit di afflusso di sangue, quindi i capillari vengono imbrigliati in questo tessuto connettivo, in questa rete, insieme alle cellule adipose non arriva sangue, le cellule adipose sono in sofferenza, per cui tutto rimane stagnante. Quali sono i trattamenti che vengono consigliati normalmente per la cellulite? I trattamenti estetici vanno in tre direzioni, trattamenti proprio legati all'estetista estetico, trattamento medico e trattamento chirurgico. Il trattamento estetico, allora l'estetista vi sottopone al classico massaggio, ai classici bendaggi, oppure adesso ci sono delle macchine che avvolgono la gamba, che vanno benissimo perché praticamente si cerca soprattutto il massaggio e ha un'azione di drenaggio. Però la cellulite, come dicevamo prima, è anche una rete di tessuto connettivo che avvolge le cellule adipose, quindi il drenaggio fatto dal massaggio, che è necessario, non agisce sulle altre componenti della cellulite. Quindi la componente della cellulite di tessuto connettivo viene attaccata a livello medico con altri trattamenti che sono in genere la mesoterapia o l'ozono terapia. Io, essendo occupandomi soprattutto di ozono terapia, vi parlerò di ozono terapia, anche se ho avuto esperienze in passato qualche decennio fa di mesoterapia, però i risultati che ho constatato con l'ozono sono sicuramente più eclatanti. L'ozono è un gas, che poi è improprio chiamare e parlare di ozono, ma bisogna parlare di ossigeno ozono terapia, perché in medicina non si usa mai l'ozono puro, ma si utilizzano miscele di ossigeno e ozono. In queste miscele di ossigeno e ozono la percentuale di ozono è variabile o può essere variabile in relazione al tipo di patologia che noi andiamo a trattare, perché con l'ozono non si tratta solamente la medicina estetica o la cellulite, l'ozono viene applicato in vasti settori della medicina, soprattutto nelle artro-reumopatie, nelle ernie del disco, nelle artriti. Comunque, per non esulare dal discorso che stavamo facendo prima, continuiamo a parlare di cellulite. L'ossigeno ozono terapia si utilizza nella cellulite, si iniettano queste miscele di ossigeno e ozono con un aghetto molto corto e sottile di 4 mm, quindi è una cosa molto superficiale. non ha controindicazioni, non crea danno, non crea allergie e non è tossico. Queste miscele di ossigeno e ozono sono iniettate sotto cute dove c'è la cellulite che ruolo e esprigono come agiscono. L'ossigeno e ozono terapia agisce in tre direzioni per quanto riguarda la cellulite. Facilita la vascolarizzazione, cioè facilita l'afflusso di sangue, quindi l'area che era scarsamente irrorata viene nuovamente irrorata, quindi le cellule adipose possono nuovamente respirare perché erano costrette. Agisce in senso di lipolitico, questa vascolarizzazione, questo afflusso di sangue fa sì che le cellule adipose, le ossigenate poi vengono ossidate, che significa ossidate? Usiamo un termine comune che non è medico, vengono così, tipo i grassi vengono bruciati, anche se l'ossidazione è una cosa diversa dalla parola bruciare, però noi per farci capire diciamo vengono bruciati, quindi i grassi vengono ossidati. Qual è altro ruolo all'ozono terapia? L'ozono terapia fa sì che anche quella rete di tessuto connettivo che avvolge le cellule adipose, quella è la cosa più difficile da trattare, venga ridotta, quindi l'ozono terapia ha un'azione in diverse direzioni, facilita l'ossigenazione, ossida i grassi e riduce il tessuto connettivo che è alla base dell'imbrigliamento dei grassi. I risultati dell'ozono terapia sono in genere molto soddisfacenti, questo il fatto di utilizzare l'ozono però non implica che non si possa fare il massaggio o che non si possano fare altre tecniche estetiche, l'una complementa l'altra. È in ogni caso sempre importante seguire un'alimentazione corretta perché l'alimentazione è alla base di qualsiasi trattamento, non esiste trattamento sia di tipo medico che di tipo estetico che non necessiti di consigli di alimentazione. Molte persone così dicono, ma tanto io mangio bene perché ho eliminato i fritti, ho eliminato i grassi, quindi mangio bene. Non è semplicemente eliminando i grassi e i fritti che si mangia bene, ci sono molte altre componenti dell'alimentazione. I lieviti soprattutto, che sono importantissimi, le farine bianche, i dolci, le creme, quelle sono da eliminare, più che i grassi e i fritti o oltre che i grassi e i fritti. In primavera ritorneremo su questo argomento perché credo che sarà ulteriormente di interesse per chi ci ascolta. Grazie e di nuovo arrivederci.